Ben trovati da Tg della mobilità iniziative anche a Roma oggi nella ricorrenza del giorno del ricordo 2 i cortei in programma nel quartiere Trieste dalle 17 alle 20 da piazza Trasimeno a piazza Dalmazza con percorso su via Clitunno, via Serchio, via Ticino, piazza Trento e via Postumia nel quartiere Giuliano Dalmato a corteo da via Laurentina a piazza Giuliani Dalmati percorrendo via Le Sinigaglia. La manifestazione è prevista dalle 17.30 alle 19.30, in entrambi i casi i possibili effetti sulla viabilità con rallentamenti del traffico nelle strade vicine agli eventi, cantieri terminati, lavori nella galleria Fleming, la circolazione tornata alla normalità nelle due carreggiate dopo i restringimenti dei giorni scorsi e il cantiere notturno in direzione Tordiquinto. La strada si percorre di nuovo nelle due direzioni e tutto per questo appuntamento con il Tg della mobilità.